L'ecstasy per il rave party sequestrata è un trentenne modenese immanente nel carcere di Montacuto. Si è conclusa così un'operazione della squadra mobile della questura di Ancona alla vigilia del Black Moon Festival, in corso fino a domenica, nella frazione Costi a Poggio San Marcello. E lì avrebbe dovuto recarsi anche Alberto Tommassini con la sua Fiat Marea, che più di un'auto sembrava un bazar della droga. Fermato nei pressi di Torretti, agenti in borghese che lo stavano seguendo dall'Emilia hanno scoperto, dopo la prequisizione, 113 dosi di metanfetamine e 16 dosi della più pericolosa Speed, oltre a 3.000 euro in contanti, quasi 1.000 monetine, molto probabilmente provento dello spaccio di un precedente rave in Friuli, dove il trentenne era appena stato con la sua bancarella ambulante. E proprio la droga sequestrata avrebbe avuto un valore di 3.000 euro sulla piazza dello spaccio, facendo presumere agli investigatori che l'attività di compravendita di sostanze stupefacenti fosse abituale. Tommassini, fra l'altro, è già stato arrestato tre volte per i atti specifici in materia di droga e da una pena sospesa di due anni e otto mesi per aver coltivato mariguana. Un fornitore che noi riteniamo seriale di questi eventi che si svolgono in tutta Italia, nel caso specifico era quello di Iesi, un reparti che avviene ogni anno, con cadenza annuale, nel periodo di ferragosto. E' questo soggetto che è stato attenzionato dagli investigatori della squadra mobile, proprio grazie a questa mappatura di controlli che viene fatta in modo massiccio, già da settimane e da mesi dal servizio del controllo del territorio, ci ha permesso di individuare una persona che già era stata qui a Dancona, nei pressi di Iesi, proprio per monitorare quello che sarebbe stato il percorso da fare e che ha tentato di fare, completare ieri, con un carico di droghe sintetiche, che sono la metanfetamina e estasi e nonché lo speed, che è una nuova droga che è un misto tra eroina e metanfetamina, molto pericolosa, con degli effetti dirompenti. Arresto è stato possibile grazie agli imponenti controlli messi in campo dalla questura di Ancona durante il ferragosto. Dal 14 al 19 sono stati controllati 2.175 veicoli, anche grazie al sistema Mercuri, 741 chiamate ricevute alla centrale operativa, 24 locali controllati e 756 persone identificate. Il binomio prevenzione-repressione ha funzionato e speriamo che continui così. La polizia sul territorio, volanti, reparto prevenzione, cinofili, squadra nautica, controlla chi passa sul nostro territorio, si chiede il perché che poi viene sviluppato dall'organo investigativo e porta al risultato.